Quando un architetto progetta una casa, deve pianificare ogni dettaglio, ma deve anche assicurarsi che tutto sia in armonia con il progetto nel suo insieme. Che dire del progetto della vita? Troviamo anche qui prove di un'attenta pianificazione e di un'armonia generale tra gli esseri viventi? Il mondo è pieno di meraviglie della creazione, ognuna con caratteristiche uniche. Eppure, tutti gli organismi viventi hanno una cosa fondamentale in comune. Il progetto racchiuso nel DNA. È da queste minuscole molecole che nasce la complessità e la differenza.